Ciao a tutti, bentornati. Oggi inauguriamo una nuova rubrica del canale e vedrete una rubrica particolare, come sempre andremo ad aggiungere qualche video ogni tanto, ma il titolo di questa rubrica fantastica è Domande assurde, ma che ci portano in luoghi meravigliosi. Ecco, ci faremo in questa rubrica delle domande un po' strane, delle domande che normalmente non siamo abituati a farci, ma scopriremo che appunto farci queste domande apre degli scenari molto molto interessanti. La domanda di oggi, l'avete più o meno già intuita dal titolo eccetera, è di che cosa è fatta, come è fatta la nostra interiorità? Tutti noi siamo, penso tutti d'accordo, abbiamo una interiorità, abbiamo una parte di noi in cui noi ci rendiamo conto, per esempio, di cosa pensiamo. Quando ci ricordiamo qualcosa, ce la ricordiamo da qualche parte dentro di noi, no? Diremo dove percepiamo le emozioni, dove percepiamo le sensazioni, dove immaginiamo il futuro, eccetera. Ecco, questa parte di noi, questa interiorità, come è fatta? Di cosa è fatta? Vi lascio qualche istante per elaborare la vostra idea, la vostra risposta a questa domanda, ricordandovi che siccome stiamo parlando di soggettività, l'interiorità è una cosa solo nostra, non c'è un giusto e uno sbagliato. Ciò che tu percepisci è giusto. La risposta che tu stai dando alla domanda, come è fatta la mia interiorità, è comunque giusta. Però potrebbe essere interessante andare a vedere come hanno risposto a domande simili, altre tradizioni, magari molto lontane da noi, magari la tradizione taoista, la tradizione cinese antica. Vedremo, la tradizione cinese antica è una risposta molto precisa. Comunque, qualche secondo per elaborare la vostra soluzione, ve l'ho dato, andiamo a vedere cosa dicono i taoisti. I taoisti a questa domanda probabilmente risponderebbero con un disegno. Questo disegno qui. Questo disegno si chiama Nei Jing Tu. Tu vuol dire disegno, schema. Nei Jing, Jing vuol dire trama, vuol dire modo con cui è costruito un tessuto, trama, ordito. Nei vuol dire interno. Quindi, il disegno di come è costruito, di come è tessuto la nostra interiorità, di che cosa è fatta e come è fatta la nostra interiorità. Proprio la risposta che cercavamo. Questo disegno, oltretutto, appartiene alla tradizione taoista. Nello specifico è stato elaborato e utilizzato molto all'interno di quella che viene chiamata la Neidan, cioè l'alchimia interiore. Pensate che a un certo punto questa immagine diventa talmente importante che in un antico monastero taoista che esiste ancora oggi, che si chiama il Monastero della Nuvola Bianca, sta a Pechino, su una parete rocciosa è stata scolpita questa immagine, come un basso rilievo, in modo che chiunque avesse un foglio di carta e un carboncino poteva andare a poggiare il foglio, strofinare il carboncino e ottenere una copia in negativo dell'immagine da portare con sé. Ok, quindi i taoisti rispondono a questa domanda con un disegno. Ma cosa vuol dire questo disegno? Cosa stanno dicendo i taoisti? Beh, basta guardare il disegno. Il disegno, se vedete, è un po' la silhouette, ricorda un pochino l'immagine di un uomo più o meno seduto a gambe incrociate. Vedete, in alto c'è la testa, poi c'è una specie di colonna vertebrale con i vari organi attaccati e poi in fondo ci sono, insomma, le gambe. Ma se noi guardiamo bene questo disegno e vediamo che questo essere umano è fatto di montagne, è fatto di ruscelli, di fiumi, è fatto di foreste, è fatto di animali, uccelli, buoi, è fatto di campi da coltivare, è fatto di vulcani, è fatto di qualcosa che può sembrare, può ricordare un po' un arcobaleno. E quindi, in sostanza, qual è la risposta dei taoisti? Come è fatta la nostra interiorità? La loro risposta è semplice ed è la nostra interiorità è fatta come la nostra esteriorità. Fuori ci sono delle montagne, anche dentro. ci sono delle montagne. Fuori ci sono fiumi, laghi, pioggia, anche dentro ci sono fiumi, laghi e pioggia. Deserti sconfinati di fronte me, deserti sconfinati dentro di me. Ciò che c'è all'esterno è come ciò che c'è all'interno. Non c'è differenza. Questo è relativo a un principio fondamentale sia del taoismo, sia di tantissime altre tradizioni, anche occidentali, ed è il principio che tutto quanto, tutto quanto noi possiamo vedere, tutto quanto quello con cui possiamo entrare in relazione, è, in fin dei conti, la stessa cosa. Tutto è uno, o come direbbe Chuanzo, chiamando il suo secondo capitolo del suo testo, sulla unità di tutte le cose. Tutte le cose sono una. E quindi, ciò che c'è dentro di me non può essere tanto diverso da ciò che c'è fuori di me. Fuori di me c'è un mondo, dentro di me c'è un mondo. Ora, dicevamo prima, non è che sia proprio necessario abbracciare per forza questa idea taoista, anche perché ci risulterà abbastanza strana all'inizio. Però cerchiamo un attimo di ragionarci che vantaggi avremo a pensare in questo modo. Beh, i taoistici dicono guarda che qualche vantaggio ce l'hai. In primis ti abitui proprio a questa idea che tutto sia uno, che tutto sia la stessa cosa. Se io sono abituato a pensare che fuori di me ci sono le montagne e dentro di me ci sono le montagne, tendrò a non considerarmi più così separato dal resto del mondo. Quindi, in primis, già ci aiuta a superare questa limitazione che abbiamo soprattutto noi in Occidente, limitazione che ci fa sentire separati, diversi dal mondo, e quindi in qualche modo vittime spesso del mondo, ne parleremo. Quindi, da una parte ci aiuta, diciamo, ad entrare in questo discorso filosofico. Ma dall'altra parte ha un'utilità ancora più forte. Se io vi facessi un'altra domanda e vi chiedessi quanto è grande la mia interiorità, normalmente, l'ho fatta a tante persone questa domanda, la risposta è quasi sempre o grande più o meno quanto il corpo, o ancora più piccolo. Molti lo descrivono come una specie di uovo nella testa o dentro di noi che racchiude questo piccolo spazio nel quale si manifestano ora i pensieri, ora le sensazioni, ora le emozioni, eccetera. Però se invece io ti dico, guarda che quella interiorità è vasta come un pianeta. Ci sono pianure a perdita d'occhio dentro di te. Ci sono catene montuose altissime e che si estendono per chilometri dentro di te. Ci sono oceani sconfinati dentro di te. Capite bene che questa immagine allarga la nostra interiorità. Non ci fa sentire che siamo piccoli e che dobbiamo difendere questa parte interiore, ma è talmente vasta che il problema non è difenderla, il problema è esplorarla. Quindi ci apre l'interiorità a pensare che sia gigantesca. E questo è sicuramente un altro gigantesco vantaggio. Ma c'è almeno un terzo vantaggio nel pensare che la mia interiorità e la mia esteriorità siano la stessa cosa. Perché riflettiamoci, se il mio mondo interno è uguale, è molto simile al mondo esterno, beh, io vedo che il mondo esterno è in qualche modo soggetto a determinati cambiamenti molto evidenti. Noi li chiamiamo climi. Ogni tanto soffia il vento, ogni tanto piove, ogni tanto c'è il sole, ogni tanto c'è umido, c'è secco, c'è freddo. Ok? E allora anche nel mondo interno devono esserci questi climi interiori. E, questo ce lo dice molto bene la medicina tradizionale cinese, quello che noi chiamiamo all'esterno clima, all'interno si chiama emozione. Ciò che io chiamo fuori vento, dentro si chiama rabbia. e sono la stessa energia. Non c'è differenza fra il vento e la rabbia. L'unica differenza è dove questa energia si manifesta. una è all'esterno, una è all'interno, ma abbiamo visto che interno ed esterno sono praticamente equivalenti e quindi sostanzialmente siamo di fronte allo stesso tipo di energia. Per esempio, ciò che tu chiami dentro paura, fuori si chiama freddo. Questo è molto comprensibile. Anche per noi la paura ghiaccia. sono rimasto ghiacciato dalla paura, frizzato, se volete usare un termine anglosassoneggiante. Comunque c'è questa idea di freddo, di blocco. Il freddo blocca. Se prendo freddo alla schiena, mi viene il colpo della strega. Bloccata la schiena. Se lo prendo alla testa e al collo, mi viene il torcicollo. È un blocco. E anche la paura blocca. E se ci fate caso, c'è un'altra analogia che è molto evidente. esattamente come il freddo stimola la nostra diuresi, ci fa fare la pipì, ci fa venire voglia di fare pipì. Pensate quando entrate, ahimè, in acqua alla spiaggia. L'acqua è fredda e ti viene voglia di far la pipì. Ecco. Ma pensate anche quanto è associata la paura all'incontinenza. Te la sei fatta addosso dalla paura, si dice. Quindi c'è una fortissima relazione fa freddo e paura. Per i cinesi non è una relazione. È lo stesso tipo di energia che si manifesta ora all'esterno, ora all'interno. Ma se il mondo esterno è sferzato dai climi e il mondo interno è sferzato dalle emozioni, beh, noi dovremmo cominciare a considerare le nostre emozioni interne come i climi. Mi spiego. Se noi ci alziamo una mattina e diciamo piove, non è che la cosa ci preoccupa incredibilmente. Piove, capita. Capita che ogni tanto piova. E però la stessa cosa non la facciamo all'interno. Molto spesso ci capita di svegliarci una mattina e sentire che siamo particolarmente tristi, per esempio. Però il nostro modello di ragionamento ci fa subito domandare perché sono triste. Come se noi, guardando fuori dalla finestra, ci domandassimo perché piove? Ok, possiamo arrivare a una risposta a questa domanda. Noi possiamo studiare i modelli meteorologici, possiamo studiare il movimento delle correnti d'aria e quindi spiegarci il perché piove. Così come ci possiamo spiegare andando a scavare all'interno di noi il perché apparente, magari, di quella tristezza, ma esattamente come normalmente se piove, diciamo, vabbè, piove, magari domani piove ancora ma poi ci sarà il sole, dovremmo fare la stessa cosa anche all'interno. Cioè dovremmo considerare le emozioni come qualcosa che, vabbè, oggi c'è ma domani no. Che non è che c'è perché c'è una ragione specifica che tu devi scoprire. Se vuoi la puoi scoprire, puoi anche essere interessante. Così come se vuoi puoi scoprire perché piove ma sostanzialmente puoi anche accettare il fatto che piove e quindi accettare il fatto che per qualche giorno siamo tristi o per qualche ora siamo ipercontenti o siamo arrabbiati o siamo paurosi o siamo delusi, eccetera, eccetera. Quindi cominciare a rivedere la nostra interiorità non tanto come qualcosa di cui noi dobbiamo assolutamente conoscere cause ed effetti ma anche qualcosa che semplicemente capita, che semplicemente si sussegue all'interno di noi come se fossero i climi, come se fossero le stagioni, no? Noi associamo facilmente la stagione, per esempio, dell'autunno, quella in cui siamo a un aumento un pochino della tristezza, ma è naturale, tutto si richiude in autunno. E anche noi. Non è che noi siamo staccati della natura, siamo la stessa cosa, vi ricordate? Quindi da autunno saremo un po' più tristi, d'inverno saremo un po' più spaventati, in primavera sentiremo più la forza della rabbia, la forza del movimento potente che si risveglia, in estate saremo contenti, tendenzialmente. Poi è ovvio che se io mi accorgo che per due mesi dentro di me piove sempre, allora magari lì è il caso di fare qualcosa, esattamente come se fuori tu vedessi che per due mesi piove sempre, magari cominceresti a organizzarti perché magari, che ne so, i fiumi si ingrossano particolarmente, quindi magari vado a vivere in un posto un po' più in alto, posso attuare delle strategie. Stessa cosa posso fare all'interno, ma se perdura per tanto tempo. Se invece oggi sono un po' più triste, domani sono un po' più felice, dopo domani sono un po' arrabbiato, è normale. Lasciate che la vostra interiorità si muova, non ingabbiatela per forza in un'idea falsa e malsana che l'interiorità giusta, sana, sia quella sempre immobile, sempre atarassica, ok? Non so se si dica così. Cioè senza nessuna emozione evidente. È il contrario. Un'emotività, un'interiorità sana è come un'interiorità sana. Oggi piove, domani c'è il sole, oggi sono contento, domani sono arrabbiato, eccetera. Ma rivedere un pochino il nostro rapporto con l'esteriorità può avere anche il vantaggio di farci guardare con occhi diversi la nostra interiorità. No, abbiamo visto già le emozioni, eccetera, ma ci sono altre possibilità. Per esempio, noi tendenzialmente in questa idea farlocca di essere separati dal mondo, cominciamo a ragionare, a cogliere, a pensare il mondo come se fosse un oggetto. Questo è un grande problema, soprattutto della nostra cultura. Noi vediamo le cose come oggetti e nel peggiore dei casi come oggetti da sfruttare, come oggetti su cui guadagnare. Noi guardiamo la montagna e la montagna ci appare come uno scrigno pieno di metalli che noi possiamo estrarre per guadagnare. Noi guardiamo una foresta e vediamo porte, tavoli, assi di legno, ok? Cioè, vediamo il mondo come un oggetto. Ma siccome i taoistici dicono guarda che non c'è differenza fra il mondo e te, se tu guardi il mondo esteriore come un oggetto, tenderai a guardare anche il mondo interiore come un oggetto. E questo è molto preoccupante. Prendete la narrazione classica, che cos'è la natura? È principalmente, nella nostra cultura, qualcosa da cui noi dobbiamo difenderci. È una forza potente che noi dobbiamo cercare di imbrigliare e di gestire. Ebbè, non è la stessa cosa che pensiamo della nostra interiorità? Andiamo a prenderci le prime intuizioni di Freud della nascita della psicanalisi. Qual è l'idea fondamentale? Freud dice guarda che al tuo interno ci sono dei mostri terribili, nascosti, che ogni tanto vengono fuori e fanno casino. E tu cosa devi fare? Tu devi gestire questa cosa in modo tale imbrigliare queste forze in modo tale che non ti sovrastino. È lo stesso ragionamento, è lo stesso modo di pensare. Quello che noi pensiamo all'esterno lo pensiamo inevitabilmente all'interno. Quindi cambiare un pochino la nostra visione del mondo esterno ci permette anche di cambiare la visione interiore. Se noi cominciassimo a considerarci come parte, se noi cominciassimo a pensare di appartenere a qualche cosa di più grande di noi, che se ci pensate è l'evidenza dei fatti, beh, cominceremo a pensare anche di appartenere a qualcosa di più grande che abbiamo dentro. Perché dentro di noi c'è qualcosa di enorme, dentro di noi c'è qualcosa di misterioso, che noi possiamo decidere se imbrigliare e gestire per avere un beneficio inutile, oppure se possiamo decidere di appartenere a questa parte e di goderci il fatto di appartenervi. Il modo con cui si fa questa cosa, i teoi si ce lo dicono fantasticamente, ci dicono devi coltivare la tua spontaneità, devi lasciare che il mondo si muova spontaneamente come vuole e in questo modo lascerai anche te muoverti spontaneamente come vuoi e siccome la natura è perfetta quando la lasciamo libera di fare ciò che vuole probabilmente anche la nostra interiorità diventerà più perfetta nel momento in cui la lasceremo libera di esprimere queste forze profonde, delicate ma potenti allo stesso tempo che in qualche modo ci abitano. grazie a tutti